Si è tenuta in questura un'assemblea sindacale con decine di poliziotti presenti su iniziativa della Segreteria Provinciale della UGL Polizia, con Roberto Costanzo, Fabio Fazzi e Fabrizio Mondarini sulla necessità del personale di PS di essere informato su tutte le novità relative al recente riordino del personale, si legge in una nota. Attenzioni puntate su pensioni, cause di servizio ed equo indennizzo. I segretari nazionali Salvo Amico e Silvano Spadaro hanno preso atto dei temi riguardanti le problematiche più diffuse relative al personale del Nisseno. Altre assemblee sono state organizzate recentemente anche nei commissariati di GL Niscemi per rilevare le specifiche problematiche locali e discutere sulle possibili soluzioni. Relativamente a Niscemi sottolineati i doppi turni giornalieri, evidenziati infine l'impegno e la disponibilità del questore senior.